partiti e in vantaggio Drago Rama davanti a Shigera Alba Doratta Kundalini Valle Cupa e Ledi Penco dopo 300 metri di corsa passa Shigera davanti a Drago Rama con all'interno Alba Doratta seguono Kundalini Valle Cupa e Ledi Penco e in vantaggio Shigera davanti ad Alba Doratta Drago Rama, Kundalini Valle Cupa e Ledi Penco all'inizio della curva prosegue in vantaggio Shigera davanti ad Alba Doratta Drago Rama, Ledi Penco Kundalini e Valle Cupa poco prima dell'ingresso in dirittura è sempre in vantaggio Shigera davanti ad Alba Doratta Drago Rama e Ledi Penco i cavalli entrano in dirittura con Shigera in leggero vantaggio a centro pista davanti ad Alba Doratta Ledi Penco Drago Rama, Valle Cupa e Kundalini e in leggero vantaggio Shigera attaccata all'esterno da Drago Rama e Valle Cupa per linee interne Alba Doratta seguono Kundalini e Ledi Penco passa Valle Cupa davanti a Shigera Drago Rama Kundalini Alba Doratta Ledi Penco in vantaggio Valle Cupa con all'interno Shigera seguono Drago Rama e Kundalini conduce Valle Cupa attaccata all'interno da Shigera torna in vantaggio Shigera davanti a Valle Cupa e Drago Rama attaccata all'interno attaccata all'interno Grazie. Grazie.